Al termine di questo anno difficile e intenso, che ci ha visti tutti insieme cercare di resistere e di arginare questa terribile pandemia, desidero innanzitutto esprimere un mio pensiero, anche a nome dell'amministrazione comunale di Almeno San Bartolomeo, di vicinanza a tutte le persone che sono state colpite da questa terribile malattia e alle loro famiglie. Desidero formulare a tutti voi, cari concittadini di Almeno San Bartolomeo, i miei migliori auguri, per un buon Natale e per un sereno anno 2021. Ci auguriamo migliore di questo che ci stiamo lasciando alle spalle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.